Buonasera mister, complimenti innanzitutto, è stata la Lazio più bella dall'inizio della stagione ma forse la Lazio più bella degli ultimi anni perché in questa partita ha messo in campo cuore, testa, coraggio e soprattutto personalità e mi riferisco in particolare dopo il gol del pareggio subito anziché demoralizzare la squadra la incattivita tra virgolette sportivamente parlando, sono qualità da grande squadra Sì ma devo fare ancora di nuovo i complimenti alla squadra ai ragazzi per come io gli avevo chiesto all'inizio viene un calendario e le partite arrivano tutte però quando arrivano partite così conta molto come ci arrivi il percorso che hai fatto e quindi oggi gli ho proprio chiesto di fare una partita di personalità, di convinzione, di gioia perché avevamo bisogno proprio di questo e credetemi abbiamo giocato contro un grande avversario, un avversario che ha qualità, che ha verticalità, magari hanno anche tolto un po' del palleggio ma sono sempre pungenti nell'andare in verticale quindi veramente complimenti alla squadra, complimenti ai ragazzi, all'ambiente, a tutto perché alla fine c'era un clima veramente bellissimo quindi la domanda e il clima è anche un'ottima stagio Proseguiamo di qua Faccini, poi Benedetti, Rocca Buonasera mister Buonasera Senta, in Italia la Lazio ha segnato nove gol nell'ultimo quarto d'ora come solo Barcellona, Benfica e i Belgi del Mechelen nei primi dieci campionati europei sto parlando di 183 squadre non aveva mai segnato così tanto nel finale in tutta la sua storia sto parlando di 124 anni contando anche l'Europa sono undici reti nell'ultimo quarto d'ora dieci oltre l'ottantesimo oggi subisce il gol del pari il Porto fa dei cambi molto pesanti la classifica è buona c'è il rischio di accontentarsi la Lazio aggredisce la partita la vince nel finale possiamo dire che la caratteristica più importante della Lazio di Marco Baroni è quella di non morire mai? Grazie Di crederci sempre di crederci sempre perché lo dobbiamo a noi stessi lo dobbiamo alla gente perché non esiste più giocare per bisogna giocare per vincere le partite perché questo ti crea mentalità poi è chiaro che io lo so benissimo che arriverà anche in momenti difficili ma se hai mentalità se hai creato nel percorso quest'identità forte le superi quindi oggi leggevo sul giornale che il City era dal 2018 che non perdeva tre partite di fila capitano alle grandi squadre quindi questo però è il percorso è come la squadra arriva l'identità forte che crea e quindi io difficilmente metterò un difensore per portare a casa un risultato perché darei per primo non sarei coerente con la proposta che facciamo durante l'allenamento non sarebbe giusto quindi stiamo parlando di un Malazzo che nella storia non ha marato tanto soprattutto nei ultimi 15 minuti ha marato 9 gols come sono 3 altri times 3 altre equipi in Europa che conseguiranno fare che è il Barcelona il Benfica è il Magalà del Belgico o tecnico che è un team una equipa che non si rende è sì la nostra caratteristica è di credere sempre abbiamo di avere questa mentalità abbiamo di giocare solo per raggiungere è una mentalità difficile ma in momenti difficili che arriverà ma è importante avere una identità forte per ultrapassare questi momenti che ci ha avuto con Manchester City a Cabo Gilet ma questo fa parte del percorso io per esempio difficilmente devo collocare un defesa per guardare il risultato così come sta io sempre voglio gare quando gioco buonasera Marco Stefano Benedetti Città Celeste Radio 6 allora due cose la prima riguarda il fatto che tu al 94esimo sei entrato in campo cioè voglio dire abbiamo visto esultare proprio hai fatto proprio invasione di campo perché insomma ti abbiamo visto veramente molto contento Sarri ci diceva che la lazialità da fuori non si capisce la cominci a comprendere quando stai dentro però non pensare di averla già compresa perché sono solo cinque mesi che sei qui però ti vedo coinvolto da questo punto di vista ecco volevo sapere come la stai vivendo questa situazione e poi una cosa è una curiosità perché sempre con Sarri siamo diventati matti a capire che cosa scriveva sui pizzini quando c'era la partita e ci siamo accorti che tu prendi appunto in conferenza stampa voglio dire che dai voli ai giornalisti così per capire no 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 non mi permetterei no ma anch'io mi iscrivo ma fra il primo e il secondo tempo poi ho i miei collaboratori che quando mi avvicino alla panchina cerchiamo poi di vedere le cose che non stanno funzionando cosa poter migliorare quindi da questo punto di vista no ma io ma io ci sono dentro con tutte le gambe e tutto perché ma fa parte del mio carattere io cosa posso dire ci ho avuto la chance più bella della mia vita cosa faccio io ci sono ho dormito due mesi a Formello ho preso casa da poco ma spesso rimango lì quindi è normale voglio ve l'ho già detto voglio dar tutto me stesso poi questa squadra quando dicevo che non mi fa dormire la notte non lo dico nel senso lo dico nel senso che mi stimola poi la notte dormo non tanto però dormo ma mi stimola no perché perché vedo vedo questa partecipazione che io le ho chiesto come vi ho già detto la proposta che noi dal primo giorno il primo giorno che abbiamo fatto abbiamo parlato subito del calcio che volevamo fare quindi la squadra ci crede e si va dobbiamo andare forte no gli appunti no mi sono scritto mi sono scritto perché l'ho fatto perché c'era intanto Nuno che è un ragazzo molto sensibile se ti riferisci all'ultima conferenza a volte quando sì le risento anche le conferenze perché oramai la comunicazione fa parte del nostro lavoro non solo la comunicazione che faccio con voi ma la comunicazione che faccio alla mia squadra quindi si lavora anche su quel fronte quindi sono due perguntas la prima nel minuto 94 vimos il mister entrare nel campo vimos il mister molto felice você sta vivendo questo spirito del team di Alasio e la seconda vimos você scrivere uns papi durante la conferenza di imprensa o che è questo vuoi dare consigli ai giornalisti anche non vamos a partire questa seconda parte io scrivo ma anche falo con i miei collaboratori o che possiamo migliorare io scrivo anche uns papi perché per me la comunicazione è importante e molte volte io escuto di nuovo le conferenze e quanto al spirito di Alasio io sto dentro di questo io ho la opportunità più linda della mia vita io dormi due mesi in formello che è la concentrazione di Alasio io voglio dar tutto tutto che ho per questa equipa è un progetto molto stimolante perché io vejo a partecipazione a mia proposta di partecipazione a un progetto in cui la equipa credita e qua salve mister buona sera stasera quando è tornato dentro lo spogliatoio dopo una vittoria del genere contro una dopo una vittoria contro una grande squadra vede i suoi ragazzi in un modo diverso con degli occhi diversi pensando che questa che questa squadra sia già un punto forse più avanti addirittura di quello che pensava lei e si sta avvicinando a quell'idea di squadra che ha in testa lei e forse anche di grande squadra perché stasera la Lazio la vince da grande squadra e poi le volevo chiedere come stanno diversi giocatori Castrovilli che cosa come procede la sua situazione e anche di Patrick come sta visto che non era in panchina non nei convocati su Castro è stato fatto un comunicato lo perderemo per qualche settimana Patrick io credo che c'è un'infiammazione però sono molto fiducioso che a Monza possa esserci quando sono rientrato gli spogliatoi la prima cosa che ho detto alla seconda squadra che io considero la seconda squadra vuol dire i collaboratori il mio staff gli ho detto ora tocca a voi lavorare perché c'è pochi giorni per rimettere in piedi tutti il grande lavoro lo devono fare loro proprio per togliere la fatica lavorare sul recupero perché l'allenatore purtroppo lavora tanto gioisce poco perché devi essere sempre sul pezzo specialmente noi oggi siamo alla sesta gara in 19 giorni a Monza saremo alla settima in 21 e quindi ho poco tempo però mi fa piacere vedere i ragazzi gioire li lascio fare perché sono dei professionisti sanno come comportarsi sanno anche gestire io parlo tanto di equilibrio perché tocca a me questo è una mia responsabilità portare l'equilibrio dentro lo spogliatoio quindi ci fa piacere quando le cose vanno bene però io devo essere anche sempre molto equilibrato nel ricentrare poi la squadra su quello che conta veramente ha una vittoria la grande squadra sì 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 ma io non è che dovevo aspettare questa partita perché per me la squadra ti faccio un esempio i 20 minuti che ha fatto Torino i primi 20 minuti sono 20 minuti da grandissima squadra poi sapete cosa è successo ma io sono convinto che quella partita se siamo in parità numérica viene fuori un altro tipo di gara e comunque nelle difficoltà la squadra ha saputo gestire benissimo anche quel tipo di difficoltà dopo questo gioco o tecnico vedo i giocatori con olos diferentes e la squadra se aproxima più a sua idea e come sono le condizioni dei giocatori Castrovilli e Patrick quindi Castrovilli vamos perdere per una settimana vocês già sabem e o Patrick ha una inflamazione e ho la confianza che il voltare a Monza e quanto al vestiario dopo il gioco ho entri nel vestiario e falei con la mia seconda equipa che è il staff tecnico e falei tem pocos dias agora o trabalho è vostro per recuperare i giocatori perché il tecnico non ha ne tempo di comemorare tem tanto poco tempo tem che lavorare ma è tão bom ver i giocatori comemorare e i giocatori sono responsabili sabem se gestire ma io come tecnico ho che dare un equilibrio a questo gruppo e se fosse una victoria di grande una equipa grande come la l'assio ora si è una di grande equipa ma non c'era che sperare questo gioco per entender che è una grande equipa per esempio contro Torino fissiamo i primi 20 minuti con una grande equipa subimos e conseguimos gerenciare e gestire le difficoltà è questa è la caratteristica più importante abbiamo il tempo soltanto per l'ultima chiedendo scusa a chi chiaramente voleva fare le domande prego buonasera ministro le volevo chiedere se è un po' arrabbiato con se stesso per il cambio perché ho visto che la squadra che i cambi erano pronti e lei lo stava effettuando poi però c'è stata quella palla recuperata e magari forse su un fallo laterale c'era l'opportunità di fare il cambio e proprio sull'assetto 4-3-3 io vedo che ogni volta che lei passa a 4-3-3 la squadra magicamente quando perde l'equilibrio lo ritrova l'ha fatto col Cagliari l'ha fatto a Torino anche stasera poi nel finale l'ingresso di Rovella ma già proprio il cambio di modulo ha giovato ecco in quest'ottica questo modulo anche la luce dell'infortunio di Castrovilli ecco come si può perseguire durante questa stagione ecco se per esempio Dele Bacir può essere impiegato più costantemente ecco come si può fare allora io noi lavoriamo per 4-2-3-1 ma come vi ho sempre detto l'intelaiotura della squadra non verrà mai toccata il doppio esterno e la punta non verranno mai toccate da questo punto di vista noi possiamo variare quei tre giocatori avere un vertice basso un vertice alto in quel momento sì mi sono incazzato devo dire la verità perché vedi a volte sono attimi ho visto che Lume che aveva fatto una buonissima partita però lì a sinistra ci avevano già beccato c'era bisogno di un freschezza lucidità però purtroppo ancora non si può chiamare time out e quindi ho dovuto aspettare che la palla andesse fuori e purtroppo abbiamo preso abbiamo preso gol però occorreva anche maggiore attenzione insomma non è non è solo la responsabilità di quella situazione lì sicuramente dopo dopo quello Rovella ci ha dato ordine abbiamo ci siamo alzati e la squadra ha ritrovato l'equilibrio ma anche erano scese un pochettino alcune risorse quindi c'era necessità di fare questi cambi l'abbiamo fatti ora peccato per quell'attimo del gol sono due perguntas la prima è se il tecnico fica chateato per le mudanças che atrasaron e se possiamo vedere durante questa temporada come il schema tattico 4-3-3 che abbiamo nella seconda parte del gioco io sempre falo che giochiamo con questo 4-2-3-1 e la moldura dell'equipe non sarà sempre lo che potremmo sono i tre giocatori nel medio soprattutto in quanto alle mudanças io fiquei chateato molto perché precisavamo di giocatore fresco in quel momento e c'era che sperare la bola saì e saì quando soffriamo il gol ma poi entrò Rovella che deu più ordine e la equipe subì e volvamo a giocare con più energia grazie al tecnico Marco Baroni grazie Valerio per la traduzione l'euro l'euro Grazie a tutti.